Allora, il signore deve uscire per motivi di praga, sicuramente. Eh, ma cucino, non si preoccupasse, anzi ci fa a dire una cosa, ci fa a dire una cosa, mi dica. Allora, dottore, ci fa una domanda, io a notte non mi stai fare un addombero, cosa mi consiglia? Sto dormendo, ma lei che mestiere fa? Ma che c'è andata il segnista? L'elettricista comunque. Guardi, le consiglio, può fare il metronotte. Ho capito, vabbè. Eh, ma comunque dottore, ma signor grave? Le sto prescrivendo. Dieci sedute di fanghi E dieci di sabbiature. Eh, e dopo che sto, guarisco, sto meglio? Guardi, io non le assicuro niente, però andando sabbiato a stare sottaterra.